Ci siamo, è arrivato durante l'evento di Netflix 2DOOM l'ultimo teaser trailer di Stranger Things 4 che rende le cose ancora più cicciose, allora andiamo a vedere di che cosa si tratta e tutto quello che c'è dentro o che ci potrebbe essere. Un saluto strani nomi cose città di Lega Nerd, qui è Giacomo, parliamo di Stranger Things 4, il prodotto sicuramente più atteso di Netflix da quasi tutta la popolazione mondiale per il 2022. Abbiamo avuto vari teaser che ci hanno fatto vedere Hopper che non è morto e che si trova in Russia, ci hanno riportato all'interno dell'istituto dove venivano fatti gli esperimenti sui bambini con poteri come Eleven e ci hanno introdotto a quello che sarà l'ultimo teaser trailer che poi è questo e che tratta del classico caso di casa infestata. E vediamo subito di che cosa si tratta, di che cosa ci aspetta in questo nuovo teaser trailer di Stranger Things la classica famigliola che arriva nella classica casa che si rivelerà molto meno accogliente di quello che si poteva pensare. Sulle note di Dream A Little Dream Of Me, canzone molto dolce, molto romantica, ma anche forse diciamo meno pacifica di quello che potrebbe sembrare. La Krill, la famiglia Krill, i Krill arrivano in questa nuova casetta, da notare che è il 1969 perché lo abbiamo scoperto dai precedenti video che ci hanno fatto vedere dei ritagli di giornale. Sapete che poi ci sono dei cose che non ci sono per caso, dei dettagli che non ci sono per caso. Per esempio, vedete, la famiglia arriva sicuramente da lontano in quella che potrebbe essere una villa che si trova nella cittadina natale dei nostri protagonisti. I trasporti si chiamano Mayflower e chi è appassionato di storia, non soltanto americana, si ricorderà che la Mayflower è praticamente la nave che portò i pellegrini che arrivarono in America e che si stabilirono lì all'inizio. Certo, anche una storia non proprio piacevolissima di scontri, anche sanguinosi, con i nativi del luogo. E se vi ricordate la storia dell'horror, se avete vissuto o se avete recuperato un po' di film degli horror degli anni 80, sapete benissimo che i nativi americani, solitamente, sono molto incazzosi e molto vendicativi, ok? Quindi Mayflower potrebbe essere, ok, un indizio, come no, potrebbe essere anche semplicemente una citazione del fatto che potremmo vedere il rapporto della casa infestata con, ora anche se non fosse costruita proprio sopra un cimitero, dei nativi americani come in altri film, tipo Poltergeist, che sappiamo è uno dei pallini dei Duffer Brothers, gli autori di Stranger Things, tanto che lo hanno citato molte, molte volte durante le stagioni, ed ecco la nostra famigliola felice, tipicamente americana, padre, madre, figlia e figlioletto, tutti vestiti con, comunque, diverse gradazioni di blu, di azzurro, questo colore della speranza, del cielo, del mare, della novità, della serenità, che naturalmente sarà turbata, no? Eppure la casa all'esterno sembra azzurra, pacifica, bella, bianca, ok? Entriamo dentro, è da notare che anche qui i dettagli si sprecano, no? Non a caso, c'è questa vetrata, questa vetrata con una rosa, che come sappiamo la rosa bellissima, colore della passione, rosso dell'amore, ma anche sappiamo le spine, ok? Quindi naturalmente sappiamo già che probabilmente quella porta ci porterà in un mondo di qualcosa di piacevole, una nuova casa, ma anche probabilmente qualcosa che ha le spine. Le spine che cosa sono? Il padre, il padre famiglia, Krill, nota subito che c'è qualcosina che non va, un rumore, boh, e anche il figliolo sembra dire, mmm, che sta succedendo, ta ta ta, luci che lampeggiano, e allora noi sappiamo benissimo che quando ci sono le luci che lampeggiano, significa che c'è qualcosa che non va. Stranger Things ha fatto delle luci che lampeggiano il simbolo, l'annunciazione del sottosopra, o comunque di qualcosa che dal mondo di là arriva nel mondo di qua, e solitamente è qualcosa che non è mai piacevole da sperimentare. Tanto è vero che poi la bambina che scende le scale trova, immagine piuttosto forte, un coniglio morto, ma non morto in maniera naturale, naturalmente morto esploso dall'interno a quanto sembra, esattamente come abbiamo visto diverse volte nel corso delle serie precedenti, magari altri oggetti che venivano sventrati dall'interno, tipo le zucche del campo di zucca che trovava Hopper, no? Sicuramente ve lo ricordate questo dettaglio. Eppure l'erba intorno al coniglio non sembra passarsela bene. Altra sequenza, altra scena, la famigliola che mangia tranquilla, ma c'è qualcosa ovviamente che inizia a non andare tipico. Questo sembra proprio il classico film di James Bond o di case infestate che abbiamo visto negli ultimi 30 anni, ok? Speriamo che si inventino qualcosa di un pochino originale. Ecco, e poi abbiamo l'immagine classica della tragedia, della possessione demoniaca, chiamatela come vi pare, la casa che si impossessa di uno dei suoi componenti, in questo caso il padre famiglia, il padre della famiglia, e niente, il vetro è rotto, come vedete la rosa non c'è più, i vetri sono stati rotti, il padre e i bambini sono morti, e il padre è girato di spalle verso la porta. Ora, noi sappiamo che il padre della famiglia Krill, al 100%, nei tempi moderni, nel 1986, quindi non più nel 1969, dove si svolge questa sorta di flashback naturalmente, ecco, il padre della famiglia Krill, ai tempi della stagione numero 4 di Stranger Things, sarà interpretato niente po' po' di meno che da Robert Englund, cioè, naturalmente, per chi è nato e cresciuto negli anni 80, come me, Freddy Krueger, l'unico, il vero, il solo, l'originale. Noi siamo contentissimi che Robert Englund sia della partita di Stranger Things 4, naturalmente farà il vecchio padre della famiglia Krill, naturalmente che probabilmente è stato internato in un istituto psichiatrico dopo aver fatto strage della sua famiglia, quindi questa è un'altra cosa interessante e abbiamo capito che svolgerà dunque un ruolo molto importante la famiglia ma forse soprattutto la casa e adesso andiamo a capire perché dopo, cioè, tutta questa strage, questo dramma che ricorda molto Amityville Horror, Shining, Poltergeist, insomma, ecco, queste cose che ricordano tantissimo le possessioni demoniache nelle case infestate con relativa tragedia familiare. Siamo ai giorni nostri, cioè ai giorni nostri, 1986, e anche questo è un dettaglio non da poco ma ve lo dico dopo, un'altra cosa naturalmente che si può pensare subito. Abbiamo di nuovo la vetrata con la rosa ricostruita, mentre gli interni sono esattamente gli stessi, quindi la classica casa lasciata, no, sospesa nel tempo, nel vero senso della parola, con gli stessi mobili, gli stessi elettrodomestici, le luci, insomma, eccetera, e chi arriva? Naturalmente, ecco, intanto ci arriva una mattonata tipica da teppisti e chi arriva? Arrivano i nostri, per così dire, o meglio una parte dei nostri, ok? Eccoli qua, i nostri protagonisti, i nostri gagnetti malefici sono in quattro, abbiamo lo zaino, probabilmente quello di Dustin, con ovviamente la ricetrasmittente, con il pin dei Ghostbusters, la spilla dei Ghostbusters, la spilla del campo scientifico che ha frequentato Dustin durante l'estate nella scorsa stagione, e qui dice, che stiamo cercando? Che cosa stiamo cercando in questa casa? Bisogna capire come ci sono arrivati, beh, probabilmente sono andati a controllare le fonti, perché abbiamo visto nei teaser precedenti dei ritagli di giornale che venivano letti, chiaramente all'interno dei visori, no, quelli con cui si scorrevano nelle biblioteche i giornali d'epoca, e abbiamo visto la tragedia datata a 1969 della casa Krill, Krill House, e come vediamo qualcuno si era chiuso dentro, le luci sono ancora intermittenti, o forse c'è già qualcosa che non va, e questo orologio, facciamo bene attenzione, perché l'orologio potrebbe rivelarsi molto più importante di quello che pensiamo, tanto è vero che sembra osservare i nostri ragazzi e ragazze che se ne vanno su per le scale. Dustin cita Sherlock Holmes, Sherlock Holmes direttamente dal mastino dei Baskerville, la storia dove appunto si pensava che ci fosse anche lì una possessione demoniaca, un cane posseduto, demoniaco, eccetera, e un mostro che poi invece si rivela, vabbè, se non l'avete letto il mastino dei Baskerville andatevelo a leggere, e qui abbiamo il nuovo look dei nostri protagonisti, sempre molto anni Ottanta, e neanche il siparietto naturalmente con le citazioni che non mancano mai, e poi questa scena che potrebbe, come non potrebbe essere presente nella serie, questo sembra più un qualcosa buttato là per fare effetto e lanciare il titolo finale, come vediamo ci sono diversi oggetti, la culla, anche questa tipica delle case infestate, la carrozzella, anche questa tipica ai vestiti, la luce che filtra, le poltrone, insomma, e questo orologio, questo pendolo, questo pendolo gigantesco che sembra annunciare qualcosa di non molto buono, e forse anche che il tempo avrà qualcosa a che fare con questa stagione. Eccolo qua, il sottosopra che fa capolino in questa manzarda, e abbiamo anche, insomma, sembra il Mindflyer, no? Le apparizioni del Mindflyer nella seconda stagione, e questo orologio che inizia a muoversi e a rompersi, quindi credo che questo sia una clip, un qualche secondo, creato appositamente per questo teaser trailer, però il fatto che l'orologio si rompa, si fermi, insomma, 2022 è quello che si aspetta, su Netflix, ecco, c'è qualcosa che ha a che fare con il tempo. Siccome abbiamo visto diversi flashback annunciati sull'infanzia di 11 all'interno dell'istituto, dove era naturalmente rinchiusa per sviluppare i suoi poteri, e forse scopriremo qualcosa di più sul sottosopra, chi lo sa, però questo orologio sembra davvero annunciare un mistero, come vedete, no? Anche le piante rampicanti sopra, quella classica sensazione di devastazione che vediamo quando i protagonisti si trovano nel sottosopra, ecco, potrebbe essere qualcosa che ha a che fare con il tempo, con lo spazio, e col tornare indietro, o col fatto che il sottosopra sia forse, non solo un qualcosa che ha a che fare in maniera alternativa con la nostra realtà, ma forse una proiezione della realtà nel tempo. Dicevo del tempo perché 1969-1986, quindi dalla tragedia della villa Krill, della famiglia Krill, al giorno d'oggi, 27 anni. 27 anni vi ricordate che cos'è? Naturalmente sì, IT, le apparizioni di IT, di Stephen King, IT compare ogni 27 anni, quindi anche questa è una citazione molto sottile, molto interna, però, ecco, è giusto ricordarla. Allora, che ne pensate di questi teaser trailer e di questo ultimo teaser trailer di Stranger Things che abbiamo visto? Pollice su se ti è piaciuto questo video, anche pollice giù, tanti commenti, diteci cosa ne pensate, cosa vi aspettate, e che pensate che ci sia in questo teaser? Se ci avete visto qualcos'altro, iscrivetevi e, naturalmente, attivate la campanella. Noi ci vediamo alla prossima, ciao da Giacomo. È arrivato durante il... To Doom? L'ultimo. È arrivato durante l'evento di Netflix. Neft... Le... 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 Le...